Buongiorno e ben ritrovati, siamo in diretta su Tele Lombardia, io vado subito a presentare il mio ospito che è in studio con me, buongiorno al dottore Andrea Gregori, direttore unità complesso urologia dell'SST, fate bene fratelli, Sacco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ben trovato, voi sapete benissimo come si fa, potete chiamarci al numero 0239352712, aspettiamo le vostre telefonate. Allora, i temi sono tanti, io direi di iniziare subito a in qualche modo indicare quali sono le patologie più ricorrenti in ambito urologico, appunto dei pazienti che poi si rivolgono da lei e chiedono che cosa mi sta succedendo, qual è il mio problema? Allora, l'urologia è una branca specialistica molto ampia, si occupa dell'apparato urinario, sia dell'uomo che della donna e dell'apparato genitale maschile. Quindi le patologie che riguardano questa branca sono moltissime. Abbiamo patologie sia benigne che cosiddette maligne, quindi con un, diciamo, gradi di gravità diversa. Tra le patologie benigne molto frequenti abbiamo innanzitutto l'ipertrofia della prostata, quindi quella condizione per cui con l'età la prostata si ingrandisce e può dare tutta una serie di disturbi che poi eventualmente discuteremo. Altre patologie molto frequenti sono quelle infiammatorie, infettive, quindi le cistiti, le prostatiti, comunque un gruppo molto ampio di malattie. Poi abbiamo un grande capitolo che riguarda la calcolosi delle vie urinarie, quindi ci sono tantissime persone che soffrono per la produzione di calcoli, quindi questi sassolini che poi danno tutta una serie di disturbi che possono anche essere importanti e soprattutto che danno una sintomatologia molto dolorosa. Abbiamo anche tutto un grande capitolo che riguarda un sintomo che è la incontinenza urinaria, quindi l'incapacità di trattenere le urine, cosa che può colpire sia gli uomini che le donne e che può essere dovuta a tantissime ragioni. Anche queste eventualmente le discutiamo durante la trasmissione. Poi abbiamo alcune patologie maligne e quindi tutto il capitolo dei tumori, quindi i tumori dei reni, della vescica, della prostata e degli organi genitali, quindi sia i tumori del testicolo che i tumori del pene. Infine, l'ultima cosa che vorrei citare tra le patologie urologiche sono quelle puramente andrologiche, quindi che riguardano sia la sfera sessuale sia la fertilità. Quindi abbiamo tutta una serie di malattie che riguardano gli organi genitali e che quindi possono dare delle problematiche di tipo sessuale, quindi per esempio l'impotenza, oppure dei problemi di fertilità. Ad esempio nei ragazzi giovani abbiamo una patologia molto frequente che è il varicocele. Il varicocele. Dottore, insomma, questo ovviamente per identificare quali sono le patologie più ricorrenti, sia in ambito benigno che quando noi diciamo le oncologiche intendiamo le forme tumorali, dottore, è giusto? Sì, esattamente. Sono le forme di tumore tra le quali abbiamo anche forme cosiddette benigne. E comunque anche tra quelle maligne che vengono un po' considerate le malattie che sono potenzialmente mortali, oggi vengono anche curate molto bene, molto spesso riusciamo a portare alla guarigione i pazienti. Quindi diciamo che vengono definite maligne ma non sono spesso mortali, quindi riusciamo a curare. Ecco, un messaggio importante perché come in tutte le cose qualora si riesca ad intervenire, a prendere la patologia per tempo, è chiaro che il risultato sarà sicuramente migliore e sarebbe meno rischioso. Quello che vi chiedo, se voi volete intervenire e magari vi ritrovate in una di queste situazioni, volete raccontare la vostra storia o semplicemente avete iniziato un percorso, avete qualche dubbio, qualche perplessità, chiamate. Tra l'altro, dottore, c'è anche un problema ultimamente che noi solleviamo, è le visite rimandate, i famosi screening saltati, tutto questo a causa di una pandemia che ha rallentato tanti appuntamenti. Sì, purtroppo questo è un problema che stiamo affrontando già da tempo, grazie un po' all'organizzazione delle nostre aziende sanitarie, dei nostri ospedali. Sicuramente sia il timore dei pazienti di recarsi nelle nostre strutture, nelle strutture sanitarie per paura di infettarsi con il virus e anche i ritardi dovuti al sovraffollamento degli ospedali dei malati con il Covid hanno fatto sì che tanti pazienti hanno un po' trascurato le proprie patologie, spesso non per colpa loro e quindi questo crea un grande problema, un grande problema perché la chiave principale per guarire dalle malattie in generale, soprattutto dalle malattie tumorali, è sicuramente la diagnosi precoce. Quindi è ovvio che ogni ritardo crea un disagio da questo punto di vista. Allora, direi di prendere la prima telefonata. Buongiorno, chi parla? Dunque, mio marito gli hanno riscontrato una denoma a surrene, di sì, quindi no. Sì. Per sapere come dobbiamo comportarsi, cosa dobbiamo fare. Ok, la denoma, allora innanzitutto definiamo cos'è il surrene. Il surrene è un organo che si trova sopra il rene, è da qui che prende il suo nome, ma con il rene non ha rapporti diretti, quindi la definizione, il suo nome deriva solo dalla sua posizione. È una ghiandola che produce tutta una serie di sostanze ormonali, che sono fondamentali per il funzionamento del nostro organismo e può essere colpito da diverse patologie. La patologia di cui ci ha parlato la signora è una denoma, cioè una ipertrofia delle cellule del surrene, quindi un aumento del numero delle cellule di questo organo, che quindi possono produrre un aumento della produzione degli ormoni. Questo non è sempre detto, nel senso che ci sono degli adenomi cosiddetti secernenti e degli adenomi cosiddetti non secernenti. Quindi questo paziente dovrà fare una serie di accertamenti con degli esami del sangue che vanno proprio a valutare la produzione di queste sostanze, quindi a vedere se è una di quelle forme in cui c'è un'aumentata produzione di ormoni. Allora in questo caso ci saranno delle terapie idonee, terapie mediche, e in alcuni casi si potrà pensare a una terapia chirurgica, quindi di asportazione. Se invece l'adenoma non è secernente, quindi non produce degli ormoni in eccesso, allora si può mantenere una semplice osservazione nel tempo, quindi facendo degli esami per vedere che questa formazione non si ingrandisca ulteriormente e soprattutto non inizi a produrre questi ormoni in eccesso. Allora, direi di iniziare con una delle patologie più frequenti, ossia l'ipertrofia della prostata. Di che cosa si tratta? Approfondiamo e aspettiamo chiaramente le vostre telefonate. Allora, l'ipertrofia prostatica benigna è una condizione in cui la ghiandola prostatica si ingrandisce nel tempo. Questa è una patologia molto molto frequente. Circa la metà degli uomini dopo i 50 anni ha un ingrossamento della prostata che poi può essere più o meno sintomatico. Quindi la prevalenza, per esempio, intorno ai 65 anni è dell'80%, quindi si capisce che è una patologia estremamente comune e diffusa. Quando la prostata si ingrandisce, uno dei primi disturbi che può dare è una ostruzione del flusso urinario. Questo si può manifestare poi in diversi modi, nel senso che ci può essere sia una sintomatologia proprio di ostruzione, quindi la difficoltà a urinare, la sensazione di non svuotare completamente la vescica, il fatto di gocciolare alla fine della minzione a lungo, il fatto di esitare a iniziare la minzione, quindi soprattutto al mattino quando il paziente si sveglia, va in bagno e fa fatica a iniziare a urinare. Oppure ci può essere anche una sintomatologia che noi definiamo irritativa, quindi con una serie di sintomi in cui la minzione aumenta come frequenza, la cosiddetta pollaciuria, quindi un aumento delle minzioni giornaliere, anche di notte, quello che noi chiamiamo nicturia, quindi quando il paziente di notte è costretto a svegliarsi, alzarsi e andare in bagno a urinare. E poi ha anche sintomi tipo l'urgenza di urinare, quindi dover per esempio fermare la macchina improvvisamente e doverla fare sul ciglio della strada, oppure cercare un bar con una certa velocità, perché lo stimolo è impellente. E infine un altro dei sintomi è il fatto di avere sempre questa sensazione di dover urinare, quindi quello che noi chiamiamo tenesmo, quindi la sensazione di dover sempre avere bisogno di andare in bagno. Quindi abbiamo questi due grossi blocchi di sintomatologia. Quando questo avviene il paziente dovrebbe fare una visita urologica. Ecco, adesso andiamo nel dettaglio cosa comporta una visita urologica, quali sono gli esami che poi di norma a voi urologi consigliate. Però prima prendo una telefonata, chi parla? Buongiorno. Allora, io dottore, il tempo fa, ormai sono passati gli anni, che sono stata operata di tumore alla tuffe, e quindi mi hanno fatto la totale. Però da un paio di mesi a venire qua, io ho sempre la cistite, e durante la notte vado diverse volte, scendo 3, 4, 5, 6, 7 volte la notte, per andare a urinare. Però la cosa che mi dà fastidio è perché mi viene un calore e subito dopo mi scappa di andare in bagno. Però la cosa strana è, io non so che sei l'età magari, perché ormai ho 72 anni, non è che ho 20 anni, va bene che sono in disabria e sono in carrozzina. E poi un'altra cosa, siccome sono stata operata alla colonna vertebrale, volevo capire se magari, essendo che magari comprime, perché il medico dice che comprime la vescica con il bacino, va bene. Però la cosa che mi dà fastidio è questa cistite che mi viene frequente. Certo, grazie. Adesso a fine mese ho una visita, vediamo quello che viene. Se mi può dare una risposta, grazie. Grazie signora. Allora, in effetti poi le chiedo io, dottore, ma una donna, normalmente è l'uomo che va dall'urologo, una donna in questi casi deve andare dall'urologo comunque o rivolgersi alla ginecologa? Così abbiamo anche delle indicazioni in questo senso. Allora, assolutamente sì. Quando si parla di minzione e urina, lo specialista è l'urologo. Benissimo. Esatto. Il ginecologo o la ginecologa è lo specialista dell'apparato genitale femminile. È ovvio che questi due apparati sono molto vicini, sono a stretto contatto, quindi molto spesso una patologia che coinvolge degli organi genitali può riverberarsi a livello urinario o viceversa. Quindi a volte abbiamo delle patologie in comune, che trattiamo in comune con il ginecologo, tant'è che abbiamo dei super specialisti che vengono chiamati uroginecologi, quindi sono quelli o urologi o ginecologi che si occupano anche delle patologie dell'altra branca. In ogni caso, sostanzialmente, quando si parla di urina bisogna andare dall'urologo. Nel caso della signora che ci ha illustrato un quadro direi molto complesso, sicuramente la prima cosa è farsi vedere e fare una serie di accertamenti, nel senso che la signora ci ha raccontato alcuni elementi. Allora, prima di tutto il fatto di essere già stata operata, quindi di aver fatto una cosiddetta isterectomia radicale, quindi ha tolto sia l'utero che gli annessi, quindi le ovaie con le tube ovariche, e questa è una condizione che può provocare una discesa del pavimento vescicale, verso il basso, quindi quello che noi chiamiamo prolasso vescicale. Quando avviene questo prolasso vescicale, una delle possibili conseguenze è il ristagno di urina dopo la minzione, quindi quando il paziente o la paziente va a urinare non svuota completamente la vescica, non svuotando completamente la vescica si predispone a delle infezioni. Allora, infatti, la signora ci parlava di avere delle, ci diceva di avere delle infezioni ricorrenti, delle cistiti ricorrenti, queste possono essere delle infezioni che si ripetono e quindi le danno questa sintomatologia di dover andare molto spesso in bagno, magari con urgenza. In quel caso che cosa si fa? Si interviene con un intervento chirurgico per il prolasso? Sì, allora sostanzialmente la prima cosa da fare è correggere la condizione che provoca questo ristagno. Se la condizione è il prolasso della vescica, ovviamente bisognerà fare un piccolo intervento di sollevamento del pavimento vescicale. È molto frequente, tra l'altro le donne ad una certa età purtroppo succede. Assolutamente, questo è molto frequente sia come conseguenza della chirurgia ginecologica sia come conseguenza dell'età e del fatto che molto spesso le donne hanno magari avuto delle gravidanze, quindi dei parti e quindi i tessuti si sono stati stirati durante il travaglio e quindi poi soffrono di una certa debolezza che viene anche acuita dalla menopausa. Allora, tornando a parlare dell'ipertrofia prostatica, eravamo rimasti alla visita all'urologo? Esatto. Cosa consiste? Allora, prima di tutto la visita inizia con la raccolta della storia clinica del paziente, quindi quella che noi chiamiamo anamnesi, quindi chiederemo sia tutto ciò che riguarda la salute del paziente nel passato, quindi quali interventi chirurgici ha subito, quali patologie ha avuto, quali farmaci assume, se fuma, come va l'intestino, come va, se ci sono dell'allergia, quindi la prima cosa è avere un quadro generale della salute del paziente. Allora, interrompo perché ho una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie mille per il servizio puntuale che offrite, sempre molto aggredito. Grazie, grazie signora. Mi chiamo Antonio, ho 60 anni. Volevo sottopare un quadrito al medico, cortezo me, io da circa 4 anni mi sono reso conto di avere dei problemi con la prostata, nel senso che il mio medico mi ha fatto fare l'ecografia che non ha riscontrato niente di particolarmente anomalo, però da 4 anni prendo una pastiglietta al giorno, di quel famoso, che non è un farmaco, è un famoso integratore che praticamente aiuta a regolarizzare la prostata dei biorinari. Ma quello che devo chiedere al medico è questo. Io attraverso dei momenti in cui, particolarmente sotto stress e in particolare quando ho delle difficoltà a livello intestinale, questi fastidi aumentano notevolmente. Quindi voglio dire, sono così centrali questi aggravanti che sono lo stress? Ecco, l'abbiamo un po' persa, però credo che la domanda sia chiara. Dottore, la salute dell'intestino, tra l'altro peraltro chiamata al secondo cervello, può comportare anche delle conseguenze a livello urinario, immagino dal punto di vista dei batteri per esempio? Assolutamente sì, e questo è un po' il contraltare di quello che dicevamo prima con l'apparato genitale femminile, nel senso che l'intestino si appoggia alla prostata, quindi qualsiasi alterazione della funzionalità intestinale può riverberarsi sull'attività minzionale. questo è il motivo per cui noi consigliamo delle diete che servono a mantenere l'intestino regolare, perché la regolarità dell'intestino fa sì che non ci siano quei picchi di disturbi che il telespettatore ci ha evidenziato. Torniamo all'anamnesi, quindi si chiede anche un po' la storia familiare, perché noi abbiamo visto per alcune patologie che c'è anche familiarità, quindi probabilmente un papà che ha sofferto, non so, di calcoli renali può essere che un figlio abbia questa problematica, incontri questa problematica. Assolutamente, la familiarità è importantissima, sia per patologie come quelle che ha citato lei, quindi i calcoli urinari, per esempio, perché molto spesso noi vediamo famiglie intere che soffrono della stessa patologia. Soprattutto poi abbiamo la familiarità per le neoplasie, quindi per i tumori, per esempio un grandissimo fattore di rischio per il tumore della prostata è proprio la familiarità, quindi se in famiglia si hanno avuti o il papà o il nonno o lo zio, ovviamente tutti i maschi, che hanno sofferto di tumore della prostata, il rischio sarà molto più elevato. Quindi in questo caso noi consigliamo di anticipare i controlli, i controlli di screening per il tumore della prostata, che normalmente consigliamo di iniziare ai 50 anni. Invece in chi ha avuto familiarità consigliamo di iniziarli, di anticiparli ai 45. Allora, questo è anche un importante messaggio, ci sono anche delle analisi consigliabili, dottore, a qualità, magari anche esame, oltre all'incontro con l'urologo, anche l'esame del sangue? Sì, allora, assolutamente gli esami base per quanto riguarda l'urologia sono l'esame dell'urina e il dosaggio nel sangue del cosiddetto PSA, cioè l'antigene prostatico specifico. Questa è una proteina normalmente prodotta dalla prostata, che però ci dice molto sulla salute di questa ghiandola. Quando riscontriamo dei valori anomali, dobbiamo sempre approfondire il problema, nel senso che il PSA può anche aumentare in caso di patologie benigne, ma molto spesso è proprio la spia di un tumore della prostata. Quindi, quando c'è un valore anomalo del PSA, la primissima cosa da fare è fare proprio una visita urologica. Senta, quando si è in questa condizione, per esempio, poi le soluzioni possono essere diverse. So che siete molto, diciamo, avanti dal punto di vista degli interventi chirurgici, ma non solo, anche con le nuove metodologie. Allora, io le chiedo, come si può definire un tumore da operare oppure no? Quali sono le condizioni base? Allora, le indicazioni a un intervento sono varie e a seconda della patologia. Quindi, per esempio, stiamo parlando di prostata. Per quanto riguarda il tumore, l'intervento indicato è la prostatectomia radicale, quindi la sportazione totale dell'organo. Per quanto riguarda invece l'ipertrofia prostatica benigna, abbiamo diverse metodologie. Queste metodologie vanno innanzitutto proposte quando le terapie mediche non funzionano. Quindi si inizia sempre dalla terapia medica, no? Assolutamente. Perché possono retrocedere in caso di questa terapia presa in tempo? Assolutamente, sì. Assolutamente. Quando oggi abbiamo in mano veramente delle terapie efficaci, terapie mediche molto molto efficaci, che ci hanno ridotto tantissimo la necessità di interventi chirurgici, soprattutto alcune terapie combinate, perché abbiamo sia terapie di tipo sintomatologico, ma anche terapie di tipo curativo, quindi che ci permettono di ridurre il volume della ghiandola prostatica. Quindi quando il paziente risponde bene a questo tipo di trattamento non ci sarà bisogno di un intervento. Quando invece queste terapie falliscono, ovviamente dobbiamo pensare a una soluzione un pochino più radicale, quindi a un intervento chirurgico. E qui abbiamo diverse opzioni. Diciamo che le opzioni chirurgiche più moderne oggi sono quelle che prevedono l'utilizzo dei laser. Oggi abbiamo in mano diversi tipi di laser. Diciamo che quelli più in auge attualmente sono il laser ad olmio e il laser al tullio, che permettono una asportazione radicale dell'adenoma prostatico, cioè di quella parte della prostata che si è ingrandita e che ostruisce il flusso, ma sempre per via mini-invasiva, quindi senza necessità di, per esempio, del classico taglio sulla pancia che si faceva fino a qualche anno fa per asportare proprio l'adenoma della prostata. Quindi in questo caso si utilizza una tecnica per cui si passa tutto per via naturale, quindi attraverso il pene, ovviamente in anestesia, e si asporta con il laser questo adenoma che poi viene sminuzzato in piccolissimi frammenti che poi possono essere anche analizzati con il microscopio per avere la conferma dell'esame istologico. Molto bene, allora quindi c'è sempre soluzione, l'abbiamo visto, c'è una cura immagino farmacologica giusto per poter arginare il problema, laddove non sia sufficiente si procede e anche qui la sfera di scelta è ampia, a quel punto è proprio l'urologo che consiglia? Assolutamente, questo tipo di decisione è una decisione che l'urologo prende insieme al paziente. È congiunta? Assolutamente, nel senso... Potrebbero esserci dei pro e dei contro che vanno valutati assolutamente insieme, no? Esatto, soprattutto la cosa importante è che noi medici dobbiamo sempre tenere bene in mente è il fatto che noi non curiamo solo delle malattie, noi curiamo dei pazienti, quindi ogni paziente avrà bisogno magari di una terapia differente rispetto a un'altra, quindi noi dobbiamo cercare di capire qual è la condizione clinica che ci porta all'intervento, dobbiamo capire il paziente come reagirà dopo l'intervento e quindi fare quello che noi definiamo di fare una terapia mirata, mirata proprio sul paziente. Quindi le mille soluzioni per, in caso appunto di patologie legate alla prostata, in generale diciamo ci sono soluzioni un po' con tutto, no? Quindi a meno che non ci sia la malattia che è stato avanzato, ovviamente maligno, quindi a quel punto diventa un pochino più complicato ma si combatte anche per quello. Assolutamente, sì. È un messaggio che vorrei dare ai telespettatori perché magari si trovano a dover affrontare una patologia importante. Assolutamente. Diciamo che oggi abbiamo veramente terapie per ogni situazione, è ovvio che più le malattie soprattutto maligne sono avanzate e più non è facile curarle, però oggi quello che facciamo nei nostri ospedali è quello di creare i cosiddetti team multidisciplinari, quindi ci mettiamo insieme diversi specialisti, quindi nel nostro caso ci sono sempre l'urologo, l'oncologo, il radioterapista, l'anatomopatologo, a volte anche lo psicologo, quindi che tutti insieme collaborano per diciamo curare ogni tipo di malattie, anche quelle avanzate, perché oggi riusciamo non solo a aumentare la sopravvivenza dei pazienti che hanno malattie anche molto gravi, ma soprattutto quello che cerchiamo di fare è il miglioramento della qualità della vita, quindi togliere il dolore, dei sintomi che possono essere fastidiosi o anche trattare gli effetti collaterali che certe terapie si accompagnano. Ecco, poi torniamo anche su questi effetti collaterali. Pronto? Chi parla? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica? Buongiorno. Senta, volevo chiedere al dottore, io non riesco a fare una risonanza magnetica, perché quando vado dentro al tubo vado nel panico, così c'è qualcosa che la può sostituire. La capisco, la capisco benissimo. Ok, guardi, adesso le risponde il medico, sappia che capita a tante persone, quindi è successo anche a me. Poi ce l'ho fatta, personalmente pensavo, sa cosa facevo? Pensavo di essere al mare sotto il sole, chiudevo gli occhi e mi immaginavo questo, però non sempre la forza di volontà del pensiero riesce in effetti a permetterti di superare una difficoltà di questo tipo, soprattutto chi soffre magari di attacchi di panico, perché tante persone lo... Assolutamente. Allora, vorrei premettere una cosa, che quando si entra nella macchina della risonanza magnetica, nessuno è completamente tranquillo, quindi chiaramente c'è un forte rumore, a volte la temperatura non è ideale, sostanzialmente è un esame che è accompagnato da alcuni piccoli disagi. Ovviamente la reazione delle persone può essere molto diversa, cioè appunto chi ha anche un attacco di panico o quello che viene proprio definito claustrofobico, quindi chi non riesce a stare negli spazi chiusi. Che poi se interrompi dopo devi riniziare da capo. Assolutamente. Anche questo da tenere di conto che è agita, no? Eh certo, sì, anche perché non è mai un esame che dura pochi minuti, ma magari dura 20 minuti, mezz'ora, addirittura in alcuni casi può anche essere un esame di 45 minuti un'ora. Quindi è ovvio che in questo caso quello che noi facciamo è, in base al tipo di patologia verso cui ci troviamo di fronte, è capire quali sono le alternative. C'è sempre un'alternativa di esame che si può fare. Ovviamente non è detto che l'esame alternativo dia le stesse identiche informazioni, magari la risonanza in alcuni casi è l'esame ideale, però c'è sempre un'alternativa che ci può dare la possibilità di arrivare alla diagnosi e a prendere la decisione giusta. Quindi con delle tecniche differenze, sottoponendosi ad altri esami? Esattamente, tipo la TAC. Ecco, già la TAC potrebbe essere, devo dire, cambia proprio tutto, no? Perché la TAC ormai è molto aperta. È tutto aperto, quindi quella sono riuscita a farla senza problemi. Pronto? Chi parla? Sì, sono il signor Antonino. Ciao Andrea. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore. Mi ha fatto il risultato positivo all'HPV, praticamente gli ha causato danni una distrazia che si è operata. La mia paura adesso è che abbia potuto contrari io questo virus e naturalmente mi abbia potuto percorrere danni. Che esami posso fare per constatare queste cose? Grazie, prego. Papillomavirus sarebbe l'HPV? Esattamente, sì. Allora, quello che bisogna fare è sottoporsi regolarmente a delle visite di controllo in modo tale da vedere se si manifesta questo virus, quindi se ci possono essere poi delle lesioni, soprattutto a livello dei genitali esterni o della zona anale, perianale e quindi in questo caso trattarlo con dei piccoli interventi che sono per esempio una semplice coagulazione in anestesia locale di queste piccole lesioni. In alcuni casi oggi c'è la possibilità di fare dei vaccini, dei vaccini che... I giovani stanno facendo il vaccino, soprattutto alle ragazze, all'età delle scuole medie per intendo, quindi anche questa è una soluzione. Ovviamente non è nel caso del signore che ormai non si può fare da adulto o si può fare anche da adulto? Anche perché la prima cosa che bisogna fare è capire quale ceppo di papillomavirus è presente perché ce ne sono tanti e oggi abbiamo a disposizione delle analisi che ci possono dire esattamente qual è il virus verso cui ci troviamo di fronte e poi quindi per alcuni di questi c'è la possibilità di fare anche un vaccino curativo anche a una certa età. Quindi insomma prima di tutto verificare che tipologia, si magari lo sa già, non lo sappiamo noi, non ce l'ha detto, dopodiché avrà delle manifestazioni, ecco questo dottore, quindi se ancora non ha avuto queste manifestazioni probabilmente non ha avuto questo problema? Sì, ovviamente non è detto che ci sia bisogno poi ecco di fare dei trattamenti, per quello che dicevo di fare delle visite di controllo proprio per vedere se la malattia si manifesta. Pronto, buongiorno. Ciao, sono Gaetano. Ciao Gaetano, benvenuto. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. È successo quasi un anno fa adesso di avere un linfoma a lingue destro. Sì. No, mi hanno operato a Magenta e diciamo che è andato tutto bene, diciamo. No, però cosa mi succede? Io bevo tanto, tanta acqua, mangio tanta frutta. Diciamo che alla notte no, alla notte una volta vassimo mi alzo. Però tante volte mi capita di avere nel centro, diciamo, tra il lingue e la prostata, delle piccole fritte. Il mio dottore, diciamo dell'ospedale, mi ha detto che è normale una cosa del genere. Ha detto che io le voglio chiedere. Dopo che ho fatto questo intervento, se gli spiego il motivo ci viene da piangere, però lasciamo stare. E come vi devo comportare? Perché tante volte non mi esce bene l'urina. no? E devo fare come i bambini, sai? Quando... Ah, si deve... lo stimolo per farla capire. Stimolare, certo. Eppure bevo tanta acqua e mangio tanta frutta. Vi saluto, ciao. Aspetta, Gaetano. Mi dica. Ascoltami, ma tu hai fatto la visita all'urologo? Eh sì, perché quando sono stato a Magenta... Nel momento stesso dell'operazione, dice lei. Mi hanno fatto tutte le visite. Ok. Risolanza magnetica. Io non ho paura della risolanza magnetica. Bravo. Proprio proprio, non ci pensavo nemmeno. Entravo dentro lì e buonanotte, 40 minuti. Eh, ma... E le ho fatte, le ho fatte le visite. Ma no, anche da giovane le ho fatte. Era tutto a posto il PSA. Che poi il mio dottore, diciamo, quando era un tuo amico, aveva detto che il PSA non serviva niente, che c'era un'altra visita che era meglio del PSA. Però adesso non mi ricordo che... Adesso le dirà l'urologo. Grazie Gaetano. Quanti anni ha? Aspetta, Gaetano, l'età? 73. 73. Quindi però, per dire, tipo le analisi per il PSA, l'ultima che l'ha fatte... L'hai fatte da giovane? Non l'hai più fatto? Sì, sì, l'ho fatte, l'ho fatte. Ah, l'hai fatte anche recentemente? Sì, l'ho fatte da giovane e l'ho fatte adesso che mi è capitato. Prima dell'operazione. No, perché magari pensavo che... Diciamo che era risultato tutto... Tranquillo, nella normalità. Grazie Gaetano, adesso le rispondi. No, pensavo perché per questo tipo di intervento linfoma si fanno anche gli esami urologici? No, non necessariamente. Non sono collegati. No, no, non necessariamente. Per quello dicevo. Il Gaetano ci ha raccontato di aver fatto un'asportazione di un linfoma inguinale, quindi verosimilmente si era ingrandito un linfonodo della sede inguinale, da cui è stata fatta questa diagnosi. E quindi poi ha subito le cure idonee per questa malattia. Collateralmente, probabilmente alcuni disturbi urinari che lui ha riferito durante il ricovero hanno fatto sì che gli abbiano fatto anche una visita urologica. Probabilmente lui dovrà approfondire ulteriormente, perché da quello che ci ha raccontato l'impressione è che abbia dei sintomi di tipo ostruttivo, quindi che vanno indagati con un esame molto semplice, che si chiama flussometria. È un esame banalissimo in cui il paziente deve urinare all'interno di una specie di water, quindi è una semplice minzione, che è collegata a una macchina che ci crea un tracciato del flusso urinario. Quindi ci dice tutti i parametri della minzione, ci fa capire se c'è un'ostruzione o meno. Allora, quei sintomi sembrano dei sintomi di ipertrofia prostatica e quindi probabilmente qualche terapia per l'ipertrofia della prostata potrebbe risolvere i problemi di Gaetano. Allora, Gaetano, fai questo esame, se riesci, visto che sei in ballo, insomma, con tutti i controlli, ti sistemi, così non hai più pensieri. Noi andiamo in pubblicità. Rientro, volevo poi fare una domanda al nostro medico, perché sappiamo che ci sono delle problematiche, si chiama un po' long post-covid, tra le varie sintomatologie c'è anche un problema legato all'erezione, è corretto? È possibile, ne parleremo. È possibile. Ho una telefonata, facciamo così, la prendo, però rispondiamo dopo la pubblicità. Chi parla? Buongiorno. Buongiorno. Sono Mauro da Brescia. Ciao Mauro, prego. Volevo un'informazione. Sì. Ho 59 anni, ho fatto la tour a 55. Hai fatto la? La tour. Ok, poi. Mi ha trovato nelle cellule, quando avevo fatto la tour 4 anni fa, io sono sempre in osservazione dell'urologo. Ho fatto anche la biossia. e mi hanno preso 18, adesso io dico come... Sì, sì, tecnicamente, tanto il dottore capisce ovviamente perfettamente. Mi hanno esportato 18 pezzi, non lo so, io dico pezzi. Sì. E quei 18 sono risultati 3, ancora dei follicoli tumurali. Volevo chiedere al dottore, se io più avanti, prima o poi, dovrò farmi urlare della propria. Ok, allora, se ha altre domande, dottore, vuole sapere l'età? Me l'ha detta. L'ha detta, non l'ho, mi ha sfuggita. Allora facciamo così, guardi, deve attendere la risposta dalla televisione, va bene? Ringraziamo il telespettatore, pubblicità, arriviamo. Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, dobbiamo rispondere al telespettatore, innanzitutto. Prego. Allora, se rispondiamo a Mauro. Mauro, bravo. Mauro, sì, sì. Allora, Mauro ha subito proprio un intervento che si fa per l'ipertrofia della prostata, quindi quella che si definisce turpe, cioè la resezione transuretrale della prostata. Evidentemente non ha fatto quella con il laser, ma quella classica, con l'ansa da resezione che utilizza l'elettricità. un ottimo intervento che funziona, funziona se fatto bene, ottimamente. All'analisi dell'esame, all'analisi istologica del tessuto asportato, l'anatomopatologo ha trovato delle cellule tumorali e quindi è stato posto sia perché è relativamente giovane, perché è stato operato quando aveva 55 anni, e sia evidentemente perché il numero di queste cellule che sono state trovate era molto basso, in un programma che noi chiamiamo di sorveglianza attiva, cioè sappiamo che c'è la possibilità che all'interno della ghiandola prostatica ci siano ancora delle cellule tumorali e quindi monitoriamo la situazione nel tempo per vedere se questa malattia si svilupperà e si manifesterà con il passare del tempo. Allora in quel caso potremmo fare un intervento, per esempio un intervento chirurgico o comunque dei trattamenti curativi. Mauro è stato quindi poi sottoposto correttamente a quello che noi chiamiamo mappaggio bioptico della prostata, cioè attraverso una manovra ambulatoriale che si fa con un pochino di anestesia locale, sono stati prelevati dei piccoli pezzettini di ghiandola prostatica per essere analizzati. Nel suo caso sono stati eseguiti 18 prelievi e quindi qui la diagnosi evidentemente è stata quella ancora della presenza di cellule tumorali. La decisione se fare un trattamento per esempio chirurgico o meno e questo lo deciderà Mauro insieme al suo urologo, dipende da una serie di fattori, dipende innanzitutto dall'età, quindi Mauro è ancora relativamente giovane, ha 59 anni, quindi ha una lunga aspettativa di vita. Dipenderà dall'aggressività delle cellule tumorali perché il grado del tumore è definito dalle caratteristiche proprio delle cellule, quindi quando abbiamo chiaramente più il tumore è aggressivo e più sarà necessario curarlo. E infine bisognerà spiegare a Mauro quali sono i possibili rischi dei diversi trattamenti, quindi per esempio dell'intervento chirurgico, rischi che possono coinvolgere sia la sfera urinaria, quindi con la possibile incontinenza di urina, e sia la sfera sessuale, quindi i problemi di erezione. E quindi insieme al suo urologo dovrà discutere di tutte queste opzioni per decidere se fare l'intervento. Se posso permettere, sicuramente considerata la giovane età è bene che Mauro probabilmente in futuro si sottoponga a un trattamento radicale di asportazione della prostata per guarire definitivamente dalla malattia. Per vivere più serenamente, anche perché in questo caso però, dottore, non sempre si mette, anzi, non si mette in discussione anche il discorso della vita sessuale, o no? Ci sono dei rischi? Dei rischi ci possono essere, sì. Oggi per fortuna noi utilizziamo delle tecniche chirurgiche anche qui mini-invasive, quindi utilizziamo delle tecniche con la laparoscopia e la chirurgia robotica che ci permettono attraverso delle telecamere che ci ingrandiscono il campo operatorio, quindi ci fanno vedere dei dettagli estremamente precisi, anatomici, e quindi ci permette di conservare quelle strutture anatomiche che sono poi deputate sia alla continenza urinaria sia all'erezione. Quindi quando la malattia è ancora in fase precoce noi possiamo conservare delle strutture, quindi non essere troppo demolitivi, perché quando siamo demolitivi uno dei possibili rischi è proprio il deficit dell'erezione. Caspita, non è una scelta semplice, quindi mi rendo conto che non è semplice proprio per il paziente, insomma ovviamente il medico è corretto nel dire esattamente come stanno le cose. Allora, Covid e problemi sessuali di erezione, se non erro, è così? Ma veramente state riscontrando questo? Mi ha parlato molto, ho visto anche dei titoloni su questo. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che il Covid ci sta ponendo tutta una serie di problematiche che non conoscevamo, quindi questo anno di pandemia ha fatto sì che si creasse la letteratura, no? si sta creando una letteratura, si stanno facendo numerosissimi studi proprio per capire questa malattia nei suoi dettagli. Ecco, guardate anche questo titolo, Mimmo, grazie, no, perché giustamente ne parliamo, siamo assolutamente in, come dire, aggiornati. Sì, questo titolo in, diciamo, Ingannevole. No, non è ingannevole, però in particolare riguarda un piccolissimo studio che è stato fatto negli Stati Uniti, in particolare, se non sbaglio, Miami, in Florida, che però ha riguardato un numero di pazienti molto, molto basso. È una segnala... Università di Miami. Ecco, vedi, allora, ricordavo bene, perché è un articolo che ho letto qualche settimana fa e riguarda solo quattro pazienti, però è un'osservazione importante, nel senso che sono state fatte delle biopsie del tessuto del pene, quindi dei corpi cavernosi del pene e sono stati ritrovati delle particelle di virus, anche a distanza di qualche settimana o di qualche mese dalla malattia. Quindi questo ci pone il problema della permanenza del virus all'interno dei nostri tessuti. Questo lo stiamo studiando su tutto l'organismo, anche dove lavoro, stiamo conducendo degli studi, noi in particolare sulla presenza del virus, per esempio, a livello dei testicoli, proprio per capire, per esempio, se questa malattia avrà delle ripercussioni sulla fertilità. quello che osserviamo sicuramente nei pazienti che hanno avuto il covid è un aumento della frequenza dei problemi della sfera sessuale. Quindi quello che adesso dovremo andare a capire studiando questi pazienti, quindi facendo degli studi scientifici fatti chiaramente in maniera molto rigorosa, è capire quanto ci sia una componente organica, quindi quanto ci sia un vero e proprio danno da parte del virus sui tessuti o quanto invece ci sia anche una componente psicologica. Perché chiaramente il paziente che ha avuto il covid spesso soffre di un'intensa debolezza proprio fisica. Vai in down come si dice, quindi magari anche quell'aspetto ha la sua incidenza. Prendo l'ultima telefonata, pronto? Sì, dunque mi hanno detto ha fatto il vaccino al 9 di apure. Sì. Dunque, dopo 20 giorni ha fatto un'operazione a una mano. Sì. Ha fatto una operazione a una mano. Dopo di che, dopo una settimana, sì, ne uscite il foco di San Antonio. Ok. Cioè, io chiedo, sarebbe qualcuno non fare la seconda faccia del suo vaccino perché dovrebbe farlo all'ultimo giugno. Allora, signora, allora dunque, siccome manca un minuto e mezzo, il fuoco di San Antonio è molto frequente. Normalmente arriva quando abbiamo le difese immunitarie più, diciamo, sottoposta a pressione. In questo caso, si valuta l'ipotesi di allungare i tempi? Non so. Allora, per rispondere molto rapidamente, io credo che il fuoco di San Antonio si sia sviluppato in seguito all'operazione alla mano, nel senso che lì l'organismo ha subito uno stress, quindi non è stato il vaccino che ha prodotto questo indebolimento delle difese, anzi, il vaccino ha prodotto un aumento delle difese immunitarie contro il Covid, ma è stata l'operazione alla mano a creare un indebolimento. quindi una volta passato a giugno sicuramente il sistema immunitario del paziente si sarà ripreso e quindi potrà essere sottoposto al richiamo senza nessun problema. Io devo ringraziare tantissimo il nostro dottore, il dottor Andrea Gregori, direttore dell'unità complessa complesso di urologia SST. Fate bene fratelli Sacco, grazie, ci ritroviamo molto presto. Grazie a voi. Grazie a voi.